Mancano tre minuti e iniziamo la nostra diretta, la prima diretta online dei lili, una finestra di energia, due minuti, vedo che si stanno collegando, bravissimi, ciao e il cuore che batte a cento, dai 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 che andrà tutto bene, queste due minuti non passano mai, eh? Cosa succede? Un minuto, intanto iniziando tutti quanti possiamo caricare un po'. Energia, 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 ma prendiamo, vai, che così mettiamo un po' di musica, bravi, avvero, vai, su. Ciao, che piacere essere qui con te per condividere questo momento di energia, di allegria. Soprattutto, prima cosa, vai a mettere musica, ok? Corri a mettere musica, ti do il mezzo minuto per mettere la musica più divertente che a te piace. E come implementi per questa rutina, abbiamo bisogno di una sedia più un materassino, se noi il materassino prendi un asciugamano di spugna grossa, ti va benissimo. Allora, ti parlo un po' più della rutina che andiamo a fare oggi. Questa rutina si basa in un riscaldamento, un mini riscaldamento di energia veloce, ok? Dopo che, quattro, quattro esercizi, che lo faremo per tre serie, ogni esercizio di trenta secondi, di una serie all'altra, prendiamo trenta, quarenta secondi del recupero. Nivello di questa rutina, principiante e intermedio. Siamo pronti? Hai messo la musica? Voi che contiamo dieci? Sì, 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 dieci secondi. Intanto mettiamo le gambe aperte un pochettino e contiamo tutti quanti, tutti, tu e io contiamo insieme. Vai! Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, sei parte. Hai messo la tua musica? Perfetto. Apre le gambe più larghe delle anche. Fai un bel respiro profondo e espirando vai giù. Inspira. l'aria, lo fai più, un pochettino più veloce. Damme quattro, damme tre, damme due, ancora, 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 e uno. Vai a rimanere giù. Rimane, rimane, in un piccolo scorso. Guarda qua, non troppo giù. Mantello, 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 e vengo. I spade laterali, un lato dopo, un lato dopo l'altro. Ancora. Damme quattro, damme tre. l'ultimo che rimane qua. Rimane. Allunga la tua schiena, allunga la tua schiena, allunga la tua schiena. Inspira profondo. Vai a cambiare lato, vai. Incrocia dell'alto e rimane. Respira. Inspiro, vengo su e braccia girano. Giro, giro. Vai a chiudere un pochettino più le tue gambe. bene. Ancora. Quattro, tre, due, uno. In avanti. Vai. Uno, due, tre, quattro. Ultimi quattro, ultimi tre, ultimi due. E l'ultimo. Rimane su. Inspiro. Vai a sollevare le gambe. Ginocchio su. Vai. Non tanto veloce, non tanto lento. Ok? Va. Inspirando. Ancora quattro. Ancora tre. Due. L'ultimo. Veloce. Una marcia veloce. Una marcia attiva. Se tu sei una persona intermedia avanzata, puoi fare questo qua. Un skipping. Ok? Vai. Vai. Muove le braccia, muove le braccia. Vai. Inspira, inspira. Inspira, inspira. Dai, dai, dai. Dammi quattro. Dammi tre. Dammi due. E rimane. Inspira. Le gambe non troppo aperte. Vai a fare una retroversione del bacino. Vai a scendere piano, piano, piano giù. Rimane giù. Inspira. Ultima la testa. Vieni su. Inspira profondo. Distende tutta la parte superiore. Fai la retroversione del bacino. Vai a scendere giù. Lentamente. Ancora. Vengo su. Ultima la tua testa. Bene. Inspira. Dammi l'ultimo. Scende, 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 scende. Inspira. Allunga le tue gambe. Rimane lì. Rimane qui. Rimane lì, rimane lì. Vai, 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 vai. Inspira, inspira, rimane lì. Bravissimi. Bravi, bravi, va. Inspira. Resto lì. Piego le gambe. Relasso testa, spalla e braccia. Ultima la testa. Viene pianino su. Su, 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 su. Inspirando. Vengo a acrochar el braccio dentro. Mantengo la schiena diritta. Quattro. Ancora. Tres. Ancora. Due. Uno. Agro. E vai. Il secondo. Incroci in avanti. Puoi muovere un pochitino, si vuoi. Come stiamo? Stiamo molto bene? Sì? Perfetto Certo che sì Ho parlato in spagnolo apposta Non pensate Che così facciamo un po' di scherzo Vai, inspiro profondo E dietro Allora, subito al lavoro Per il primo esercizio abbiamo bisogno del tappeto O la tua asciugamano, ok? Vai a mettere il tuo tappeto Vai a fare la plan Cioè plan in ginocchia Guardate prima però La prima serie va a essere un pochettino più lenta Ok? La seconda, la terza Sappiamo gli esercizi, cosa dobbiamo fare Lo facciamo un pochettino più veloce Via con le spalle e lo mantengo Inspiro e respiro E parte adesso, via Trenta secondi, dai 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 Respira profondo per il naso, fuori per la bocca Appoggia la punta del piede Contra le chiappe E vai Inspirando e espirando Partita intermedia Vengo qua e distendo Liliana io vado a correre, vado in palestra Tu fai la qua Importante la postura, non scende l'anca Manca pochissimo, manca pochissimo, manca pochissimo E grazie Vengo Vado su Prendo la mia serie La seconda Il secondo esercizio che andiamo a fare È un squat Sulla sedia Guardate prima Intanto prende la sedia e vai Io resto qua Le gambe sono più aperte un pochettino Della sedia, ok? Vai a andare giù Vai ad appoggiare la parte del dicipite femorale Sul bordo della sedia E vai a venire piano Inspirando E espirando Ogni volta che scendi Sale e schiaccia piedi Inspiro, utilizza il pavimento E vai Tu, la parte intermedia Vengo, chiudo Mantengo Attivo E vengo su Inspiro lento E vengo su Una gamba dopo l'altra, ok? Vai E vengo su Vado Torno con il principiante E schiaccia E schiaccia Farmelo lento Vai, 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 vai Vai che manca un pochettino Ancora Lavoro, ultimi quattro Vai Inspiro Ultimi tre Schiaccia Schiaccia taloni E lento Vai giù con la schiena dritta Abra il petto Allontano le spalle Delle orecchie Inspira Ok Inspiro E vengo qua La parte intermedia Vai a fare Una Appoggio una gamba Dopo l'altra Ok? Per questo esercizio Vado a prendere Il mio timer Sì, lo facciamo lì Pronti? E via Va Vado con i principianti Inspira Inspira Vai Ancora Fuori l'aria Inspira Fuori l'aria Ricordate L'intermedio Se è qua E schiaccia la sedia Per salire No Non c'è nessun problema Se non potete scendere troppo Vai fino a dove vuoi E schiaccia Qui Cortito Lo puoi fare anche Molto più corto Ok? Vai L'ultimo 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 E vengo Grazie Inspira Profondo Respira 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 Il prossimo esercizio Che hai E l'ultimo Il quarto Serebbe un esercizio Di cardio E guardate Qua Perché qua Dobbiamo fare Una cosa Muy 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 Importante È che la parte bassa Le persone Che stanno facendo La parte bassa Mantengano le braccia Qua Ok? Il solevo 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 La parte intermedia Posso farlo Più veloce O addirittura Posso saltare Qua Vai Solleva Solleva Cerca di non muovere la parte delle spalle La parte superiore Ancora Intermedio Ricordate Qua O Ancora Dai 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 Su Forza Energia Dai Inspira Manca poco Ultimi E l'ultimo Bravi Bravissimi Abbiamo il tempo Da recupero Dai Intanto Non dimenticare Condivide questa Attività Con i tuoi amici I tuoi familiari Poi Enviarmi Le domande Dime cosa Ti piace Non ti piace Dai Su Mandami Che ti rispondo Domande Domande E manca ancora Dai La prossima Lo dobbiamo fare La prossima volta Lo fiamo Questa seconda serie Deve essere più 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 Attiva Ok Per sentirlo un po' di più Va Vai Vai Siamo pronti 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 E via Sono 40 secondi Adesso Andiamo No Punti Clave Gomiti In linea Come spalle Controi le chiappe Allunga la testina Principiante Siamo qua Dai Che manca meno Dei 10 secondi Dai 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 Inspira 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 Ancora 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 Due Uno E Grazie Pronti Il secondo Prende la sedia Prende la sedia Vai Inspira Profondo Andiamo Pronti Via Va Inspira Inspira Va Inspira Inspira Inspirando Inspirando Fai rovento Inspira Dai giù Inspira Dai giù Cosa abbiamo fatto Per la parte intermedia Vengo Mi siedo E Come abbiamo fatto Con la gamba Sinistra Cambia gamba Adesso Vai Inspirando Inspirando Quando ti vai dietro Siedi dietro Fai lo più lento Va Mantengo Ancora Dai Ultimi Due Lentamente E l'ultimo Rimani lì Rimani 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 La sedia Pronti 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 Mantendo Tre Due Uno Via Va Sale Scende Lenti Utilizza la sedia Ricordate La parte intermedia Inspira 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 Ancora Respira Respira Non dimenticare Non dimenticare il respiro Non muovere le spalle Rimani Attiva Che fulminare Ti manca poco 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 Due Uno Bravi E recupero Recupera 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 Dai Che stiamo nel recupero Inspira Inspira Approfitta Per bere Se vuoi Non dimenticare Bene La postura Naso Boca Respira Naso Boca Dai ancora Il tanto Ya mettiamo Tanto 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 Mantendo Ho iniziato Con la parte Intermedia Ok La base Sapete Che dovete fare qua Appoggiare le ginocchia Punti a piedra E distendere tutto Va Dai 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 Ancora 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 Manca 10 secondi Dai Dai Pronti Finito Via Wow Andiamo con il prossimo Il secondo Ah no Scusate No E le squat Le squat Scusate 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 Eccoli Lì Pronti E Vai Inspiro Expiro Vengo su Inspirando Inspirando Questa volta Come questo è il terzo Per l'intermedio Cosa facciamo? Atteniamo la gamba Ok Vado giù E vengo con l'altra Inspirando Expirando Venga Inspiro E vengo qua Vado più lento Per mantenere l'equilibrio Ok Sì no Principiante Dai che ti manca Poco Ancora Ultimi Quattro Tre Due E l'ultimo Vai Vai Inspira 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 Ci manca adesso Adesso si viene il dix Sulla Sulla Sedia Inspira Profondo Pronti Vai Inspira E vai Qua è uguale Queste principiante Vai Intermedio Attiva L'addominale E schiaccia Scende fino a dove puoi mantenere la postura della tua schiena Allontano Spade Delle orecchie Fuori D'aria Vado Torno con principiante Vai Inspirando Inspirando Su Ultimi Quattro Tre Due E grazie Aha Dai L'ultimo esercizio Abbiamo finito Dai Inspira Inspira Andiamo con Nia Pronti Stiamo qua Attiva L'addominale Cresce Allunga E vai Principiante Va Su 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 Intermedio Muovo Il secondo intermedio è Su 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 Lo faccio un pochettino più veloce Ok Io torno con principiante Vai Attiva Addomini Senti gli addominali Va Inspirando Inspirando Dai che ti manca Dai che ti manca Tre Due Uno E Bravissima Bravi 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 Ehi Abbiamo fatto tre serie E Se tu l'hai sentito Quanto a me Sono contentissima L'ho sentito tutto quanto Allora Prima di Diti ciao Diti ciao Non dimenticare Fai il like Mandare I tuoi commenti Poi condividere Con i tuoi familiari Amici Questa attività Che lo facciamo Con molto piacere Ci vediamo Il venerdì Alla stessa ora Per il stesso canale Ciao ciao Wow Ciao ciao